Musica Musica Questa volta amici di Agrisapori siamo in provincia di Piacenza nel comune di Bacedasco Basso. A pochi chilometri da Salso Maggiore Terme. Perché abbiamo raggiunto questo territorio? Perché parliamo di prove in campo. Praticamente un appuntamento in collaborazione con FEDER, una coma, la federazione nazionale dei costruttori macchine agricole. Una sorta di EIMA International in campo, in concomitanza con cosa? Con la grande esposizione universale di Milano Expo 2015. A tal proposito, se Tony Gavazza dalla regia vuole regalarci qualche istante, noi abbiamo girato proprio delle immagini di quelli che sono gli spazi di FEDER, una coma, all'interno del grande salone, del grande Expo di Milano. Ma a parte questo, siamo appunto in campo con 30 aziende che propongono e presentano i loro prodotti mentre lavorano. Perciò prove in campo. Delegazioni straniere dagli Stati Uniti, dalla Corea, dall'Egitto, Sudafrica, Australia. Insomma un gruppo di persone che naturalmente hanno raggiunto Bacedasco per vedere le macchine proprio lavorare. Una due giorni in attesa poi del grande evento di EIMA International che si terrà il prossimo anno a Bologna, come ogni due anni, ma soprattutto un evento aspettando anche il mese di ottobre perché a Bari, Fiera del Levante, dal 15 al 18 proprio ad ottobre ci sarà Agri Levante. Ma facciamo tutto con ordine. Adesso diamo la parola a Marco Cerbi di FEDER, una coma, per una considerazione proprio su queste due giornate piacentine. Poi andremo a chiacchierare con alcune delle aziende che hanno portato qua le loro macchine, i loro prodotti e poi parleremo proprio ancora di Bari. Vi invito a rimanere dunque con Agri Sapori, prove in campo da Bacedasco Basso. La due giorni qui di EIMA Show in provincia di Piacenza nasce da un accordo, da un agreement con Confagricoltura che appunto ci ha proposto in funzione di Expo di fare delle dimostrazioni anche di macchine agricole in una zona dove Confagricoltura è particolarmente presente, quale la provincia di Piacenza. Per questo motivo siamo andati a coinvolgere anche la Regione Emilia Romagna. Anche la Regione Emilia Romagna prevedeva delle attività da fare in funzione di Expo e quindi anche la Regione Emilia Romagna ha ben volentieri partecipato a questa iniziativa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo organizzato queste due giorni di prove in campo come facciamo da anni, d'altra parte con le altre EIMA Show, in più però qui c'è il leitmotiv dell'Expo quindi per questo motivo è forse la prima manifestazione in campo dove organizziamo delle delegazioni da paesi esteri. Infatti qui abbiamo una trentina di operatori, grosso modo da tutto il mondo perché infatti abbiamo operatori dall'Australia, dal Sud Africa, dagli Stati Uniti, dalla Corea, del Sud ovviamente e dall'Unione Sovietica che abbiamo invitato queste due giorni, visitano le macchine, hanno fatto con le aziende espositrici dei B2B ieri in un albergo dove quindi hanno fatto affari, immagini o accordi per future commercializzazioni nei loro paesi e domani questi delegati li porteremo nel pomeriggio all'Expo a visitare l'Expo e poi dopo domani e domenica partiranno per i loro paesi. Ecco, questa è un po' la filosofia di queste prove. Abbiamo come partecipanti 30 aziende costruttrici di attrattrici e attrezzature, abbiamo organizzato la manifestazione proprio in questo bellissimo scenario anche per far vedere a questi operatori esteri la biodiversità italiana e quindi abbiamo scelto proprio questa zona meravigliosa di vigneti e anche di campo aperto proprio per far vedere a questi operatori cosa vuol dire la biodiversità italiana nei vigneti italiani in collina e le coltivazioni in collina. Queste manifestazioni sono importanti per il momento che sta vivendo l'agricoltura in Italia perché è un momento non facile, il mercato sempre in flessione, il mercato dei trattori che è quello trainante lo vediamo sempre un po' arrancante, diciamo, se si può dire e di consuenza queste manifestazioni le ritengo importanti appunto per far vedere che comunque l'agricoltura è presente insomma che l'agricoltura è un settore importante per la nazione nostra. La nostra produzione si occupa di alberi cardanici, scatoli, ingranaggi e tutto quanto quello che è la trasmissione appunto del moto cardanico appunto per le macchine agricole insomma in genere e per le macchine industriali. Noi siamo presenti praticamente in tutti i continenti con 12 filiali dirette e in più chiaramente gli area manager che seguono un po' tutti i mercati, dunque siamo presenti e sviluppiamo circa l'85-90% del mercato all'estero. L'importanza di essere presenti vuol dire è l'importanza di presentare qualcosa di innovativo e noi in questo momento stiamo presentando lo Skyjump, quale nostra macchina la più importante della nostra linea perché rappresenta l'innovazione nell'ambito dei vigneti e dei frutteti. Noi ci presentiamo con dei trattori da vigneto e da frutteto dai 25 fino ai 90 cavalli, dove la flessibilità è il punto di forza di tutti i nostri trattori, l'altezza da terra, il fatto di essere articolati, il fatto di essere due steer, caratteristica unica dei nostri trattori nel nostro mercato e grazie a questo ci rende fra i leader di mercato il marchio più appetibile. Noi abbiamo portato sei macchine, due macchine della nostra tradizione per i vigneti l'erpice e una fresa spostamento, poi in occasione di questa opportunità abbiamo presentato praticamente un ripper dei rulli Cambridge che sono produzione nuove celli, un maxi da 6 metri completamente ristrutturato, cioè versione 2015 e soprattutto una vanga da 3 metri, quindi per il tipo di coltivazione, poi fra l'altro in queste zone qua. Siamo molto soddisfatti, come vedete abbiamo attaccato tutte le nostre macchine attorno a macchie importanti e pure verde, abbiamo avuto buono riscontro dei prodotti nuovi, ci aspettiamo, voglio dire questa è l'ennesima opportunità che Federuna Coma ci dà per quanto riguarda la promozione dei nostri prodotti. Federuna Coma festeggia 70 anni, noi 60 anni, vendiamo in 49 paesi del mondo, in Italia siamo presenti naturalmente dappertutto, abbiamo 150 modelli e siamo gli ultimi anni a livello di sviluppo e gamma prodotto, siamo in fortissimo rilancio. L'importanza di essere in campo con le macchine oggi qui a Bacedasco è sicuramente un elemento fondamentale per far vedere la qualità e il tipo di macchine che la Foragre produce con il marchio Favaro. L'obiettivo poi era quello di raggiungere dei operatori esteri che sono stati invitati dalla Una Coma, dall'organizzazione dell'Eima Show e diciamo che comunque ci sono stati anche dei contatti molto interessanti. Oggi poi c'è la giornata delle prove in campo che ci permettono di far vedere alla potenziale clientela sia italiana che estera quelli che sono i vantaggi del nostro prodotto e cioè in breve un prodotto di alta efficienza, di perfetta irrorazione sul vigneto con un bassissimo volume di consumo del prodotto, quindi diciamo intorno ai 250 litri per ettaro e soprattutto anche un bassissimo consumo al cardano, quindi al trattore con solo i 20 cavalli riusciamo a far girare la ventola e riusciamo anche ad avere una rumorosità bassissima rispetto ad altri nostri concorrenti. Essere a Bacedasco sicuramente è una cosa importante e per noi è una grande opportunità di far vedere le macchine in campo, sicuramente in questa occasione il fatto di avere anche delegazioni straniere è un punto a favore, per quanto riguarda il discorso visitatori italiani è un'altra opportunità di poter essere vicino agli agricoltori facendo vedere un pochino quelle che sono le novità e le nostre macchine, avendo una gamma abbastanza ampia che andiamo dalla gamma atomizzatore alle trince e agli elevatori. Nell'ambito della gamma degli atomizzatori abbiamo appunto macchine per vigneto e frutteto, qui ci siamo concentrati ovviamente per il vigneto, presentando quelle che sono un po' le macchine a basso volume, abbiamo portato qui una macchina portato, ovviamente la gamma comprende sia macchine portate che macchine trainate. Trince, la gamma per noi è molto vasta quindi andiamo sia dalle macchine per erba alle macchine specializzate, vigneto e frutteto, sia anche ciò che è campo aperto, infatti noi abbiamo una gamma che parte dai 90 cm e arriviamo agli 8,50 m, anche in questo caso ci siamo concentrati su alcuni modelli che sono quelli appunto per erba, per il vigneto e quelli a spostamento laterale per fare manutenzione nei fossati o comunque purire le rive. Campagnola Bacedasco ha portato tutta la sua gamma da potatura, essendo principalmente la location della manifestazione in vigneti, per avere la possibilità di proporre tutto quello che noi abbiamo in gamma, principalmente a livello di forbici elettriche, nella fattispecie tra i modelli sia frutteto, vigneto e una speciale vigneto, tutto quello che è la potatura dei frutteti per quanto riguarda la pneumatica e anche la raccolta, approfittando che ci sono delegazioni estere, quindi mostriamo praticamente tutto. A livello di mercato estero, come percentuale export abbiamo circa un 50% in crescita per quello che riguarda il turnover del business totale dell'azienda. I nostri principali mercati a livello economico sono la Turchia, la Grecia, la Germania, la Francia, quindi principalmente comunque l'Europa, in crescita Sudafrica, Australia e Sudamerica, nella fattispecie Argentina e Stati Uniti. La ditta Lovatti vanta decenni di esperienza nel settore irrigazione agricolo, prevalentemente dal 1952 possiamo tranquillamente dire di rappresentare l'eccellenza a livello di pompe centrifughe per irrigazione e qui siamo ovviamente insieme ad un pool di aziende molto importanti a livello di movimento terra ma anche di irrigazione perché non dimentichiamo che l'acqua è sempre molto importante in agricoltura e a volte purtroppo a me se ne si dimentica perché comunque senza l'acqua la coltura purtroppo non ci può essere insomma e quindi siamo comunque molto orgogliosi di poter rappresentare anche questa nicchia all'interno di questa giornata. Abbiamo portato qui appunto una nostra pompa, una pompa carrellata che rappresenta appunto la congiunzione tra il trattore e la pompa, principalmente le nostre pompe si sviluppano in un range di prestazioni che sono per macchine di irrigazione a getto, quindi con portate medie e alte prevalenze, di conseguenza le culture spaziano dal mais al grano prevalentemente o ai semi di soia o dipende canna da zucchero, dipende anche poi dai paesi in cui andiamo a esportare perché ricordiamo sempre che insomma siamo comunque onorati di dire che il nostro 70% del fatturato è export. La società Rocca ha raggiunto Baccio d'Asco portando due modelli di ragninatori, un RT700 frontale, retroversa e un RT870. Sono macchine che sono date al lavoro in collina, sono studiate principalmente per la finagione, quindi principalmente per la raccolta della medica, sia per la pressatura a balle tonde che quadre che l'insilaggio. La 700 è una macchina che ha bisogno di un trattore con guida retroversa e quindi la macchina ha il grosso vantaggio che riesce a raccogliere il prodotto prima che le ruote del trattore riescono a calpestarlo e quindi la qualità del prodotto è massima perché non viene completamente toccato prima della raccolta, cioè il primo elemento che si affaccia sul prodotto è proprio la molla che lo raccoglie. In collina è molto positivo questo fatto qui perché il trattore spesso tende ad erapare e quindi slittando tende a caricare la terra sul prodotto, depositare la terra sul prodotto che poi dopo gli altri ragninatori normalmente tendono a caricarla e invece raccogliendolo prima delle ruote il prodotto rimane estremamente pulito. Mentre per l'870 il vantaggio grosso è che è una macchina che è molto flessibile perché si riesce a fare un'andana al centro e un'andana al centro e un'andana laterale, quindi abbiamo la possibilità di scegliere di fare un andano ogni 3 metri e mezzo, ogni 7 metri e 60 oppure 14, 21 eccetera. Sono due macchie che sono ideali per i mercati italiani, allora il 700 è più che altro studiato anche per la biomassa perché nasce per raccogliere anche i stocchi di mais e lavorare in condizioni montagnose, collinari, estrema collina. L'870 nasce più che altro per esigenza tutte le realtà che producono fieno di alta qualità, che hanno bisogno di poter lavorare anche durante le ore diurne, questa è la grossa caratteristica, oltre all'esigenza di fare un prodotto estremamente pulito e quindi la pre-andanatura spesso è necessaria e l'870 può farla perché dove ci troviamo con condizioni molto umide la pre-andanatura permette praticamente di già sollevare il prodotto senza utilizzare gelovolta fieno, preparando già una piccola andana ogni 3 metri e mezzo, poi il giorno successivo si ritorna nel campo e si uniscono le due andane in maniera tale che si riesce ad avere un prodotto veramente con colore molto vivo, insomma un bel verde e decisamente molto più uniforme rispetto a andanare un prodotto e lasciarlo lì per un lungo tempo. A Bacedasco Basso in occasione di quest'Aima Show 2015 noi abbiamo portato tre tipologie diverse di macchine di nostra produzione che sono la vangatrice che si usa in mezzo alle file del vigneto per ravvivare e arieggiare il terreno senza formare la suola di lavorazione tipica degli attrezzi rotativi oppure si può usare anche in campo aperto, soprattutto si usa in campo di orticolo o sotto serra. La seconda macchina che portiamo è stata la bucatrice o arieggiatore che si è una macchina che nasce per campi sportivi, campi da calcio e tutti i tappeti erbosi, però qua è visto in versione vigneto, quindi per chi fa inerbimento fa un'arieggiatura del tappeto erboso senza però andare a rovinare quello che è l'impianto radicale, quindi col trattore si può passare tranquillamente anche subito dopo fatta la lavorazione. L'ultimo attrezzo è la trivella spostabile e snodata, completamente snodata con invertitore, ideale per chi deve fare i reimpianti e sostituzione di piante morte in vigneti già preesistenti, è completamente snodata quindi va a togliere la pianta morta evitando i fili che ci sono nel vigneto e si può avere spostare a destra e a sinistra quindi sia da una parte che dall'altra del vigneto. Dopo gli incontri business to business di ieri che ci sono stati con gli stranieri è importante poi fare vedere dal vero le macchine al lavoro perché un conto è presentarle su carta soprattutto macchine come le nostre che non sono molto comuni soprattutto in certe zone del mondo si rendono conto esattamente di quali possono essere gli usi e magari vedono anche quali sono delle idee che trasportate nel loro paese possono risolvere dei problemi che magari attualmente non riescono a risolvere con le macchine tradizionali quindi farle vedere al lavoro nel vigneto in campo aperto è sicuramente importante, è decisivo. Il prossimo appuntamento Bari, la prossima manifestazione statica che organizziamo e che sta sempre diventando più importante appunto è l'Agrilevante che organizzeremo a Bari presso la fiera dal 15 al 18 di ottobre prossimo e per adesso stiamo avendo gli stessi direi che siamo un po' in crescita rispetto a due anni fa sia come numero di espositori e come metro e quadri richiesti. La novità grossa di Bari è che quest'anno siamo riusciti a ottenere dalle nostre istituzioni soprattutto l'agenzia ICE un notevole budget per poter invitare anche lì molti operatori esteri quindi faremo molte missioni e anche lì organizzeremo degli intensi giorni di B2B con gli espositori. Grazie dunque ancora Marco Cerbi e alla Federuna Coma per averci ricordato anche l'appuntamento di ottobre che ripeto ancora 15-18 ottobre Bari Agrilevante Fiera del Levante. E così siamo stati con le telecamere di Agrisapori a Baccio ed Asco Basso in occasione delle prove in campo di questa Eima International in campo che ha visto protagoniste 30 aziende, le delegazioni di buyers provenienti da diversi paesi del mondo e insomma tanti amici del comparto chiaramente dell'agricoltura perché nella filiera di un buon piatto, di una buona ricetta c'è sempre anche l'agricoltura, non dimentichiamolo mai e chiaramente ci sono anche in quella filiera le macchine agricole, soprattutto le aziende italiane che hanno tanta volontà di imporsi, tanta volontà di far vedere cosa sono capaci di fare che hanno tanta volontà di mettere in campo tutta la loro capacità e la loro tecnologia. Rimanete con Agrisapori, la linea Toni Gavazza dalla regia. Quello che vedete alla mia destra, amici cari, è lo storico castello di Pandino e Pandino è una località, una città in provincia di Cremona e siamo a circa 25 chilometri dalla città di Milano perché il castello di Pandino, perché la provincia di Cremona perché andremo ad affrontare un tema bellissimo che è quello del mondo dei formaggi c'è un avvenimento all'interno del castello importante che va in scena e noi lo vogliamo portare nelle vostre case ma non vi dico altro per il momento, vi ricordo solo che anche questa puntata la potete rivedere su www.agrisapori.it e entriamo nel castello, conosciamo il maniero e poi ci tufferemo invece nel vivo della nostra puntata del tema in questione, i grandi formaggi d'Italia. Questa volta sono con Vincenzo Bozzetti che è il giudice dei giudici o meglio l'arbitro dei giudici Vincenzo lascio a te la parola perché so che è stata dura per valutare dei formaggi perché sono arrivate cose straordinarie, mi hanno detto formaggi meravigliosi ma soprattutto cosa vuol dire essere l'arbitro dei giudici? Quello che ho imparato strada facendo l'arbitro di questi concorsi è che ho imparato a gestire una giuria specializzata lasciando che la giuria esprima liberamente il proprio parere poi è chiaro, essendo arbitro se ci sono dei problemi interviene e posso dire che in questa sesta edizione del Trofeo San Lucio prima edizione dei case O'Art i giudici di questa mattina hanno fatto un lavoro meraviglioso hanno assaggiato tutti i 16 formaggi e liberamente hanno guardato ai lati positivi a che cosa li entusiasmava nei particolari formaggi infatti non ho dovuto intervenire sono intervenuto indirettamente nel senso che la prima volta nominavano la nomination 4 formaggi, poi ne nominavano 2 e quindi 1 abbiamo ripetuto l'ultima votazione togliendo un formaggio quindi su 3 formaggi hanno eletto loro il formaggio ecco, questo direi che l'abilità oggi di un arbitro come l'interpreto io è di guidare una giuria ad esprimersi al meglio certo sulla base di quanto avete ricevuto cioè i tanti produttori che hanno inviato da quasi tutti i tagli dei formaggi il sistema caseario italiano che momento sta vivendo? cioè abbiamo delle belle qualità abbiamo delle belle produzioni direi proprio di sì direi che dai primi anni che abbiamo cominciato nel 2006 ad oggi il livello medio caseario italiano si è innalzato di molto ci sono state delle categorie mi dispiace che non posso fare i nomi in questa fase però le categorie combattutissime solo in un caso ho dovuto far valere il lavoro dell'arbitro a decidere il pari merito però gli altri magari per mezzo punto per un punto sono usciti questo vuol dire che il livello medio anche dei grandi classici poi oggi grazie al cielo anche noi cominciamo a valorizzare le specialità cioè non abbiamo solo i grandi classici i grandi di OP che fanno i volumi e i valori certo e quindi hanno una valenza economica però esprimiamo anche dei formaggi che nel loro particolare con le loro peculiarità dicono delle cose estremamente interessanti avevamo per esempio un formaggio misto con latte misto che conteneva era latte di vacca il 98% e il 2% di latte asina ed è stato apprezzatissimo bene ci hai rincuorato ma soprattutto ci hai dato una buona notizia perché sappiamo quanto la qualità sarà importante per i mercati in futuro il nostro comparto sta bene questa è stata una bella manifestazione ma noi non diremo a nessuno chi ha vinto perché lo si saprà il primo di maggio il primo di maggio certo infatti il lavoro è stato uno dei passaggi critici di fronte ai colleghi giudici dove spiegare che si dovevano fidare sono un personaggio conosciuto nel settore sanno che so mantenere un segreto quindi si sono fidati si sono fidati di me siamo arrivati all'ultima votazione c'erano tre formaggi e vi assicuro che senza il mio voto un formaggio ho avuto quattro voti per cui già con i sette voti aveva aveva la maggioranza il mio voto non poteva non mancare quel punto lì ma è non non conta non conta hanno eletto un formaggio tutti riconoscerete e direte che avremmo avuto coraggio in tutta onestà in questo preciso istante mentre stiamo dialogando io non so assolutamente nulla non lo voglio sapere però voglio ringraziare questo altro amico così come ringrazio Asso Casearia Pandino il Trofeo San Lucio la Scuola Casearia qui del Comune di Pandino tutti gli amici che hanno collaborato con noi per questa avventura dedicata ai formaggi ai grandi formaggi italiani che hanno raggiunto la provincia di Cremona anche questa puntata la potete rivedere su www.agrisapori.it un grazie come sempre alla nostra redazione alla regia di Tony Gavazza e alle tante televisioni che ci trasmettono ma il grande grazie va a voi che ci seguite con tanto affetto vi aspetto per i prossimi viaggi ma sempre solo con il piacere del buon gusto Agri Sapori Grazie a tutti